ciao mi dici conoscevate il nastro dual look della 3m questo è una specie di velcro si attacca non esiste un maschio una femmina guardate con che forza si attacca per toglierlo fa molta più resistenza del normale velcro vede che si attacca anche su se stesso cioè quello non era un pezzo diverso si attacca e poi si stacca ma è molto molto forte una volta attaccato lo utilizzo per tenere in ordine i vari caricabatterie dei cellulari che voglio che mi rimangono ad esempio su un camper e tu c'hai degli oggetti che vuoi che rimangono sempre fermi su un camper su una barca su un luogo di lavoro e vuoi vuoi che ti rimanga a posto sempre un oggetto ma potrebbe essere messo anche su un utensile lo metti un pezzo sul tuo trapano l'altro addosso al muro è in grado di tenere anche pesi siccome come di anche di alcuni chili è una cosa che io utilizzo molto e da molti anni adesso l'ho finito l'ho ricomprato ho pagato questo che mi è appena arrivato comprato su amazon 22 euro per due metri e mezzo quindi due metri e mezzo sono spessi due centimetri e mezzo mi sa di sì più o meno abs 25 mm si due centimetri e mezzo la colla tiene molto forte quindi quando attaccate ci avete poi dopo una superficie dove potete attaccare e staccare ma è una cosa professionale che che tiene che tiene bene tiene negli anni e poi qualsiasi altro oggetto che voi avete messo non dovete stare a fare attenzione se avete messo il maschio e la femmina cioè se voi facesse una cosa del genere col velcro dovreste dire che ne so addosso al tavolo metto sempre la femmina su suggetti metto il maschio poi se vi sbagliate non è che si può mettere tutto su tutto invece questo essendo che non c'è il maschio e la femmina lo potete mettere tranquillamente su un oggetto e quell'oggetto andrà addosso a qualsiasi altra qualsiasi altra cosa via con una scatoletta del genere ve lo consiglio se avete esigenze di quella mia di fissare degli oggetti su una mensola in modo che rimangano fermi fermi la e non vadano in giro o staccarli riattaccarli è una gran soluzione ciabatte e altre cose vi faccio vedere al volo al volo questo è solo un esempio sta ciabatte è legata col col velcro della 3m questa è legata col velcro questa pure mettete un pezzettino e poi attaccarla in qualsiasi angolazione ancora qua qui per esempio in qualsiasi angolazione e rimane e rimane ferma in quel punto come quello un pezzettino piccolo se il pezzo è più grande tiene chiaramente tiene chiaramente meglio va bene ciao ciao facciamo vedere questa attacca sennò sembra che ecco fatto